Io valgo, valgo perché so stare con gli altri, so sorridere, sono figlio di Dio. Un messaggio chiaro, scritto nero su bianco dai ragazzi dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, è portato in marcia lungo le vie del centro, una marcia pensata in ricordo di Donoreste a sette anni dalla sua salita al cielo. Abbiamo scelto proprio l'intuizione di Donoreste della marcia, perché la marcia per lui era andare con le persone povere, le persone semplici, le persone fragili, e portarle proprio al centro del suo territorio, della sua città, cioè metterle proprio in relazione con tutto il territorio. Il filo che ha sempre legato Donoreste sia alla scelta del Signore attraverso i poveri, sia proprio dentro la chiesa e nel sociale. Un modo, quello della marcia, per incontrare i centri di urni e le case famiglia dell'Associazione che ospitano tutte le persone, i giovani e meno giovani, che in diverso modo vivono la difficoltà. Un modo per portare in piazza l'attenzione alla fragilità, perché ogni persona, anche fragile, è importante per la nostra società. La nostra società va molto veloce, è veloce nei suoi ritmi, mentre le persone fragili, quelle più semplici, ci aiutano a fermarci, a dare un senso alle cose che facciamo, ci aiutano ad armonizzare le nostre relazioni, a non renderle caotiche. E quindi noi cercavamo proprio le capacità specifiche di ogni ragazzo, per cui abbiamo dato questo senso, io valgo.